Buongiorno da mattino 6 oggi martedì 18 Ottobre si ricorda San Luca Ora vediamo i titoli di apertura dei quotidiani Iniziamo dalle pagine del centro Nell'edizione di Pescara Bancarotta indagato Daniele Toto Il fallimento da 6 milioni della Libra La procura chiede 5 e rinvia giudizio A centropagina sfratto alle case e parcheggio Di Cappelle sul Tavo Tolto l'alloggio un invalido malato di cancro Non pagava l'affitto Di taglio basso rapine in banca 12 ostaggi su Montesilvano Due banditi a volto scoperto Sequestrano impiegati e clienti Di spalla nelle cronache su Pescara Ricostruzione a bussi tangenti Spunta il dodicesimo indagato Daniele Libero E poi Val Pescara scafa All'Italcementi licenziati 40 lavoratori La protesta per la sede Il Da Vinci corteo di 1.300 studenti Blocca il centro Vediamo l'edizione di Chieti Bancarotta sempre toto in apertura E poi a centropagina Chieti cerimonia al Museo Barbelle In mostra la collezione di Paglione Quella più prestigiosa Nelle cronache su Vasto I tagli nella sanità 100 lavoratori Mobilità al San Francesco Sul Lanciano il comune Ciri prova fondi per negozi In centro storico il nuovo bando E poi via Madonna della Vittoria La strada rischia il crollo Niente più bus Di taglio basso Sassaiola 7 Ultra Senza partita Gli incidenti di Vastese Chieti I d'Aspo salgono ad 11 L'edizione di Teramo Amadori via al maxi investimento Sul piatto 24 milioni per magazzino Di gestore dei rifiuti E nuova produzione A centropagina L'azienda festeggia 180 anni di attività La liquirizia Menozzi De Rosa Punta sulla grande distribuzione Di taglio basso Processate Daniele Toto L'ex parlamentare Accusato di bancarotta fraudolenta Nelle cronache su Giulianova Il furto Ladri al camping Rubano tv e pesce congelato La Val Vibrata Alba Adriatica Federalberghi Contro la tassa di soggiorno Su Teramo Il manager nel Mirino La Team Chieste le dimissioni Dell'amministratore delegato Ranalli L'edizione di L'Aquila Il comune deve 10 milioni Alla IRTI Sentenza del giudice civile Ma l'ente non paga E fa ricorso A centropagina Il sulmonese morto in Liguria L'omicidio colabrese Un anno Senza celebrare i funerali Nelle cronache Su Avezzano Scattano le denunci Il rave Parti alla vecchia cava Giovani nei guai E poi l'inchiesta su L'Aquila Tentata truffa Giudizio l'uomo Della pezzopane Su Pescara Chiesto il processo Banca rotta Daniele Toto Sotto accusa Di taglio basso L'assalto notturno All'Eurospin Furto a Scurco La Marsicana I ladri portano via 25 mila euro Vediamo ora L'apertura del quotidiano Il messaggero Sulle pagine dedicate all'Abruzzo Lotti 18 milioni Per Pescara Il braccio destro Di Renzi A Teramo Poi al Circus Per il Sì Fondi destinati Alle periferie Ed Alfonso dichiara Palazzo Chigi Finanzi anche La demolizione Dell'asse attrezzato Della Pineta E poi a Pescara La protesta Per la succursale Il Da Vinci Invade la città Non ha preso Non ha preso mazzette Ed Angelo Torna in libertà Terremoto L'uomo in ospedale Nei giorni delle tangenti Ma resta indagato Di spalla Maglietta Pronti soldi Per collegare Le piste da sci Di taglio alto Giulianova Acqua benedetta Ma inquinata L'asl Chiude i rubinetti Teramo Ragazza incinta Aggredita Da un ubriaco Mentre passeggia E poi lo sport Galeone Dice Pescara Attento Alla nuova Udinese Lanciano Rischia il piede Esame Nel 2018 Ora invece Vediamo I titoli di apertura Dei quotidiani Nazionali Iniziamo Dalle pagine Della Repubblica Intervista Obama L'austerità Blocca La crescita Europea E poi Mosul Assalto finale All'Isis Parte l'attacco Su tre fronti Il gello Di Bruxelles Il condono Non va Cambiate la manovra Il messaggero Statale Immossa Sulle assunzioni Un fondo Di 400 milioni Per sbloccare Il turnover Nella pubblica Amministrazione L'Unione Europea Sulla manovra Dice alto Il deficit Al 2,3% Ma nessuno Vuole arrivare Ad uno scontro E poi Iraq Mosul Assalto finale Contro l'Isis Nella battaglia Anche truppe Degli Stati Uniti Di Maio Scuote Il Movimento 5 Stelle Per il caso Note spese Da 100 mila euro E poi Di taglio basso Rapinata e stuprata Voleva uccidermi La sentenza Del Gup di Ragusa L'omicidio di Loris Trent'anni Alla madre Lei lacrime Dice io sono Innocente Il Corriere della Sera Sanatori e fisco Le nuove regole Sui contanti Nascosti Moscovici Bene Gli sforzi Vigiliamo Sulle spese E poi Mosul E la spallata Al Califfo La sentenza Per Veronica In lacrime Il marito Dice Mi ha mentito La madre Uccise Loris È stata condannata A 30 anni La stampa Apre con il titolo I giovani Nuovi poveri D'Italia La Caritas Vive in situazione Di difficoltà Più del 10% Di chi ha Meno di 34 anni Capovolto Il modello Che vedeva Gli anziani Più indigenti Ai centri di aiuto Del sud Si rivolgono Più connazionali Che stranieri L'assalto a Mosul Culla del califato Il tempo Dice Poveri noi Sono 4 milioni Gli italiani indigenti Il boom Di visita Le mense carita Se i rifugiati Ci costano Un miliardo Impasti Hotel, tv Telefoni E paghetta La clamorosa Protesta islamica Contro la chiusura Dei centri abusivi Fratelli musulmani Pregate Al Colosseo Di spalla Il dossier Sugli ultra Ecco tutti i giocatori Minacciati di morte Il mattino Gara alcolica In coma A 15 anni A Pompei Studentessa Del liceo scientifico Salvata dai medici Ora rischia Danni cerebrali La sentenza Loris 30 anni alla madre Ma il movente E poi Equitalia Riscossioni a rischio L'addio alla società Frenna i pagamenti Il governo Studia Una norma Antifurbi Il caso Scoppia un tubo Alla BAST Due morti L'esplosione Nel vecchio gioiello Della chimica Tedesca Di taglio basso I rimborsi d'oro Grillini Contro Di Maio Oltre 100.000 euro Di spese L'ironia dei colleghi Gira troppo L'avvenire Dice poveri giovani Caritas La povertà In aumento Dal sud Al nord Minori Peggio Degli anziani Tornano Gli italiani E poi La doppia esplosione In impianti chimici La nube Fa paura Iraq Mosul Partiva Partita L'offensiva Un milione In trappola Il fatto quotidiano Nel sussidiario Il sì ha vinto E i sindaci Sono già senatori Le riforme La scuola Si adegua Al nuovo corso Prima del 4 dicembre E poi La manovra Il governo Ricicla soldi sporchi E la fine di Equitalia È un blef Le tasse Le pagheranno comunque Ma per le mafie C'è un condono L'inchiesta Il fratello Del ministro E il report La Porsche Pagata 1.355 euro E il VC di lusso Di Alfano Junior Libero Titola La Raggi Per risparmiare Assume 600 persone Mentre Roma Ha 13 miliardi Di debiti Il Campidoglio Ha già 50 mila Dipendenti Ma il sindaco Aumenta ancora L'organico Tanto il rosso Lo ripiana Il resto d'Italia Che versa La capitale Centinaia di milioni L'anno Più gli extra Arriva anche La spending Di più Del governo Più statali Più soldi A loro E poi 30 anni Alla mamma di Loris Condannata Senza attenuanti Ecco i dati Forniti dalla Caritas Nella classifica Della povertà Gli italiani Superano gli stranieri Ma per lo Stato L'emergenza Restano gli immigrati Il manifesto Dice Battaglia finale Per Mosul Guerra all'Isis E poi Dopo la Grecia L'Italia È il paese europeo Dove la povertà Cresce di più Al sud Nei centri Caritas Ci sono più italiani Che stranieri E più giovani Senza lavoro Nessuna misura Strutturale Del governo Pochi fondi Solo per un anno La Gazzetta del Mezzogiorno Dice Contanti Piano Per stanarli Via La comunicazione Volontaria Sul possesso Di denaro liquido Euro Ni Sulla manovra Numeri diversi Da accordi Ma niente Tensioni E poi Bari Spari Al libertà Nel circolo ricreativo Colpito alla spalla Un 31enne Ma non è grave Il sud est Il salvataggio Tra le maglie Della procura Gli inquirenti Insistono Per la bancarotta E FSI Ipotizza Il concordato Preventivo Il secolo XIX Dice l'Italia Dei poveri giovani Allarme della Caritas Il 10% Di chi chiede aiuto È sotto i 34 anni Al sud La percentuale Degli italiani Assistiti Supera Quella Degli stranieri E poi Svolta nei porti I cinesi Sbarcano In Liguria I rakeni Curdi attaccano l'Isis Mosul Partito all'assalto Per battere il califato La Russia Apre su Aleppo Tregua Umanitaria Di 8 ore E poi Il delitto di Ragusa Loris 30 anni per la mamma L'ha ucciso lei L'unità Titola La battaglia di Mosul Adriano Sofri Con i peshmerga Dal fronte del Kurdistan Racconta L'offensiva Anti-Isis Ore 6 Via le manovre Come un grande ingorgo Poi le bombe I primi morti E feriti E poi le pensioni Maggiori risorse Renzi Crescita Non mance La verità Titola Una legge Ogni due mesi Tutti i favori Del governo Alle banche Dalla riforma Delle popolari Al salvabanchieri Dagli sgravi fiscali Alla possibilità Di far pagare Interessi Sugli interessi Fino al mutuo Sulla pensione Mai vista Una tale pioggia Di norme ad hoc E poi l'università Di Bologna Regala una sede A chi la vuole Distruggere Ora torniamo Sulle pagine Del quotidiano Il centro E iniziamo Dalle pagine nazionali Si parla Dell'allarme Indigenza Giovani e minori I nuovi poveri Presentato il rapporto Della Caritas Al sud Gli italiani Che chiedono aiuto Hanno superato Gli immigrati E poi il Movimento 5 Stelle L'attacco a Di Maio Sulle spese 100.000 euro in tre anni Gli ortodossi Contro il vicepresidente Della Camera Di spalle Il referendum Oggi Tar Iberzani Dice l'Italicum È da rottamare La manovra Equitalia Dio sanzioni Per le cartelle Del 2015 Escluse L'IVA E le multe Si delineano I contorni Del provvedimento Annunciato dal governo Più ampio Il rientro Dei capitali Dall'estero E steso Anche al contante E poi Come funzionerà La nuova Agenzia Delle entrate Un SMS Avviserà I distratti Dicendo Hai dimenticato Le tasse Di taglio basso Sette nuovi farmaci Anticancro I trattamenti Di immunoterapia Saranno disponibili Per migliaia Di pazienti Pesta negli Stati Uniti Italia Da Obama E Renzi Porta i volti più belli Benigni Sorrentino La Nicolini Beatrice Via Alla cena di gala Per il saluto del presidente Con il premier Con il premier Washington Un gruppo in grado Di raccontare Agli states Che cosa cerca di essere Il nostro paese Tra cultura E vita L'omicidio di Loris La sentenza Trent'anni Per Veronica Unica Colpevole Del delitto Condanna pesante Per la mamma Del bimbo strangolato E gettato In un canalone Il giudice Di Ragusa Ha escluso La premeditazione Disposta All'indagine Sulle calunnie Le quattro verità Senza riscontri Dal vuoto di memoria All'incidente Fino alle accuse Contro il suocero Amante Di taglio basso Ancora cronaca Bologna Massacra la madre Dice Laudiavo Arrestato tossicodipendente Di 36 anni Ha reso Lucida Confessione Mosul La battaglia finale Contro il califato Onu Dice timore Per i civili L'esercito iracheno Con milizie kurde Sciite Vicino alla città Ma un milione e mezzo Di persone È ancora Intrappolato A Cagliari Una modella Annuncia il suicidio Su Facebook Grave Una ragazza Di 26 anni Vanno l'allarme Lanciato dagli amici E poi le elezioni Degli Stati Uniti Trump insiste Attenti Ai brogli Si temono Intimidazioni Verso le minoranze Mentre Clinton Vola La pagina Dedicata all'Abruzzo Le camere di commercio La riforma Fa paura Si teme Per 32 posti Documento Dei quattro enti Camerali Ai parlamentari Abruzzesi Entro novembre La delibera Diffusione Teramo L'Aquila E poi 100 tonnellate Al giorno Nell'impianto Di Aielli Rifiuti da Roma Fino al 2017 Rinnovata l'intesa L'accordo È del 2014 All'epoca fu criticato Dei 5 Stelle Oggi torna utile Al sindaco Raggi Il taglio basso Forza Italia Diritto negato Sclocco risponde Nessun onere Per le famiglie La polemica Sul trasporto Scolastico Dei disabili Andiamo avanti E apriamo La pagina di Pescara L'inchiesta Sul crack Della società Processate Daniele Toto Per Bancarotta L'ex parlamentare Sotto accusa Per il fallimento Da 6 milioni Della ditta Di famiglia libra La procura Chiede 5 Rinvi A giudizio La sentenza Fallimentare Venduti beni Per 300 mila euro Ma è troppo poco Per soddisfare Un esercito Di 60 creditori Rimasti Senza soldi E poi La sua impresa Denuncia Banca Caripe Le mosse Della difesa Un esposto Su un decreto Ingiuntivo E l'importo Gonfiato Di 24 mila euro Si torna a parlare Dell'inchiesta Sulla ricostruzione Abusi Tangenti Appalti Spunta Il dodicesimo Indagato L'imprenditore Che aveva confessato Il pagamento Di 10 mila euro Di mazzette Accusa Un'altra persona Ed è stato Scaggionato D'Angelo Roscini Pronto a parlare Il manager Dice Chiari Rò Il biglietto Con il riferimento Alla politica Di taglio basso Il fallimento Del club Nella gestione Soia In tribunale L'ex DS Nucifora Il Pescara Calcio Era senza soldi Ci cacciavano Da tutti I ristoranti Il segretario Della società Del Pescara Calcio Luigi Gramenzi Mi disse Che c'erano Circa 2 milioni Di euro Bloccati Su un conto a Dubai Ma io risposi Che noi avevamo Bisogno di 1000 euro Per andare avanti Visto che ci buttavano fuori Da ogni Ristorante Della zona È uno dei passaggi Della testimonianza Resa ieri Davanti al tribunale Collegiale Di Pescara Da Enzo Nucifora L'ex direttore sportivo Del club Biancoazzurro Nel processo Sul fallimento Del Pescara Calcio In cui Sono imputati Per Bancarotta E Bancarotta Fraudolenta Gli ex presidenti Massimiliano Pincione E Gerardo Soia E l'ex Amministratore delegato Della società Biancoazzurra Francesco Soia I fatti risalgono A un periodo compreso Tra inizio luglio 2007 E fine ottobre 2008 E poi la scuola E la protesta Del liceo scientifico Da Vinci Solo tre aule Per i 250 studenti Senza sede Il corteo Bloc Il centro della città La provincia Si impegna A trovare gli spazi Nella struttura Per anziani Di piazza Grue E una nuova manifestazione È pronta per domani Di fronte al comune I studenti Si dicono al classico Non vogliamo più stare E poi anche una polemica Da parte di SEL Di Gianni Melilla Che in una nota Dichiarato esagerato Schierare Tutta quella polizia Ieri una manifestazione Di studenti Del liceo classico Da Vinci di Pescara Per avere contezza E soprattutto certezza Di una nuova sede I ragazzi si trovano Senza aule Per l'inagibilità E dopo molto tempo Chiedono di avere Una loro sede E questa è la manifestazione Di ieri Vediamo Manifestazione Degli studenti Del Da Vinci Qui alle nostre spalle State andando in provincia Perché manifestate? Sì stiamo manifestando Per dimostrare A tutta la cittadinanza Un disagio Che viviamo da tempo Fino ad ora Abbiamo dato fiducia Alle istituzioni Ma la fiducia È stata negata Solo promesse Non rispettate E quindi adesso Vogliamo riprenderci una sede Per i nostri ragazzi Di Porta Nuova Vogliamo un attimo Spiegare qual è il problema Allora I ragazzi attualmente Sono ospitati Al liceo classico Ma loro non hanno Una sede fissa Ospitati quindi Non hanno le condizioni Per fare scuola Non hanno aule Hanno aule piccole Ringraziamo il classico Che è stato veramente generoso A metterci a disposizione La loro scuola Ma noi vogliamo Un'identità Noi siamo il liceo Scientifico Leonardo Da Vinci E vogliamo rimanerlo Fino all'anno scorso Eravate ospitati Nei locali di Viale Vespucci Sì Eravamo nei locali Di Viale Vespucci Da ormai sette anni Dove la provincia Pagava un affitto Dopodiché L'affitto non è stato Più possibile pagarlo E quindi Ci avevano detto Che ci spostavano A Piazza Grue Già dall'anno scorso Ma l'anno scorso Invece è stata occupata Dai ragazzi e l'alberghiero Per un problema tecnico Nella loro scuola Quante sono le classi Interessate da questo problema Quanti studenti? Allora Noi siamo 250 studenti E quindi 10 classi E più le aule Dei professori E i servizi igienici Torniamo a Pescara Più vigili in strada Basta doppie file Per prendere il caffè Il comandante Della polizia Municipale Ha dichiarato Aumentata la presenza A piedi Tra la gente E non solo Per multare E poi Di taglio basso Il sottosegretario Pd in città Lotti assicura 18 milioni Per rilanciare Le periferie Un regalo di Natale Che arriva in anticipo Sono i 18 milioni di euro Per la periferia pescarese Inseriti Sabato dal premier Matteo Renzi Nella legge di stabilità A portarli in dote Per i quartieri Più disagiati Della città E il sottosegretario La presidenza Del consiglio Dei ministri Luca Lotti Intervenuto Ieri pomeriggio All'inaugurazione Del circolo PD Tiburtina Villa del Fuoco Prima di partecipare All'incontro Al teatro Circus Sul referendum Costituzionale Labruzzo Che dice sì Lotti ha voluto Tagliare il nastro Della sezione In via Salara Vecchia Assieme al presidente Della regione Luciano D'Alfonso Al sindaco Marco Alessandrini E all'assessore Giacomo Cuzzi E anche al segretario Cittadino Del PD Moreno Di Pietro Antonio Ieri è stata Una giornata Di visite Per il sottosegretario Luca Lotti La mattina A Teramo La visita Si è parlato Di referendum Per il prossimo voto Del 4 dicembre Vediamo Non c'è solo La riforma costituzionale E la campagna Per il sì Al referendum Confermativo Del 4 dicembre Nell'agenda Del sottosegretario Alla presidenza Del consiglio Dei ministri Luca Lotti Il braccio destro Del premier Renzi Questa mattina A Teramo Ha incontrato Il presidente Della regione Luciano D'Alfonso Per discutere La situazione Delle scuole E della loro Messa in sicurezza Anche a seguito Del sisma Dello scorso 24 agosto E dei fiumi Con la priorità Disinquinamento Lotti Ha anche incontrato Una platea Di imprenditori E rappresentanti Nel mondo produttivo Terramano E regionale Con i quali È stato affrontato Il tema Della manovra Economico-finanziaria Appena impostata Dal governo E di come Roma e l'Aquila Assieme Possano dare Una mano Alla ripresa Economica regionale Quando è un'occasione Nella quale ci si confronta È sempre un'occasione Positiva Ripeto Ne parleremo Ascolteremo La politica Ogni tanto Deve anche ascoltare Noi siamo qui Anche per ascoltare Ci confronteremo E cercheremo Di capire Come possiamo dare una mano Come governo E come regione Abruzzo Abbiamo già firmato Con il presidente Un patto istituzionale Che prende degli impegni Reciproci Se ci sono altre cose Sul tavolo Ne discuteremo Insieme a lui Come abbiamo fatto Per il patto Con la regione Abruzzo Faremo per le nuove Situazioni Che il presidente Vorrà porci Come detto Con il presidente D'Alfonso Si è discusso Di scuole e fiumi Ma anche di tutta La partita aperta Dal governo Sulla riqualificazione Delle periferie Entrare all'interno Del dossier Periferie Finanziamenti Per la riqualificazione Delle periferie Dell'Abruzzo C'è un piano Che Renzi Ha messo in campo E l'Abruzzo Merita di starci Su questi tre problemi Parlerò a più riprese Con Lotti Che rappresenta L'agenda Gli argomenti Che pervengono A successo Perché Lui riesce a fare questo Perché sta sul pezzo 24 ore al giorno Io pensavo di essere Un lavoratore Ma paragonandomi Alle ore di lavoro Di Lotti Francamente Sono quasi Un gaudente A Pescara Si parla ancora di Movida Ci sono le polemiche L'autogestione Flop In via Battisti È solo caos Il comitato Dei residenti Chiede La testa di Cuzzi Dopo la notte Di liti e schiamazzi Gli steward Non bastano Ma non si dorme Dopo due anni Mancano le regole Stavolta vuole La testa Dell'assessore Il commercio Giacomo Cuzzi Il comitato Tranquillamente Battisti I residenti Del nuovo quartiere Della Movida Pescarese Intorno al mercato Di Piazza Muzzi Disseppelliscono Lascia di guerra Sole 72 ore Dalla promessa di pace Del comune E degli esercenti Di bar e locali Della zona L'attuazione Di un codice Di autoregolamentazione Che prevede Orari di chiusura Precisi In assenza Di ordinanze Il mantenimento Di pulizie e decoro Davanti alle vetrine Il ripristino Del servizio Di vigilanza Privata Per risolvere Problemi Di schiamazzi E liti Post bevute Si continua A spendere Per la filovia Che non c'è Il partito Il taglio Degli alberi Per collaudare E pagare Le opere Già realizzate Da decidere Se acquistare Filobus Sul mercato O se ricorrere Ad un bando La pagina Di Montesilvano Alloggi sociali A Cappelle Sfrattato Invalido Malato di cancro Sei famiglie Costrette A lasciare Una palazzina A parcheggio Del comune Di Montesilvano E l'assessore Ha dichiarato Non pagano L'affitto Di taglio basso Gli alunni Della Di Blasio Premiati a Roma Medaglia d'oro In un concorso nazionale Per il progetto Della scuola Sul guerriero Di Capestrano E poi Assalto In corso Umberto La rapina In banca Sequestrate 12 persone Due uomini Avvolto scoperto I armati di taglierino Chiudono in una stanza Impiegati E clienti E fuggono Con 18 mila euro Uno dei banditi Bloccato nel bussolotto Ma una volta dentro A sfodere il taglierino Puntavano alla cassaforte Ma nessuno Aveva la combinazione Sempre a Montesilvano D'Ignazio Del Partito Democratico Dice chi vigila Sull'archivio Nell'autoparco E poi a Pianella Domani Uffici comunali Chiusi Sarà smontata La gru Dopo il lavoro Di restauro Del municipio I talcementi Scafa Licenziati 40 addetti Mazzata sull'occupazione Nella Val Pescara Dopo il passaggio Al gruppo tedesco A Heidelberg Altri 30 Sono in mobilità L'SOS del sindaco La Speranza E Sama Se la regione Decide A Francavilla Luciani Demolire Palazzo Sirena Il sindaco Rilancia Il suo progetto Per ridisegnare Il centro Cittadino Liberate Piazza Sirena Da una struttura Ingombrante Non più funzionale E funzionante Che ha fatto Il suo tempo Sono le parole Del sindaco Che si affida Una newsletter Per comunicare Quello che secondo lui Dovrebbe essere Probabilmente sarà Il nuovo assetto Della principale Piazza Cittadina Di Francavilla San Giovanni Teatino Al partito Democratico Non piace Il nuovo Look Di Via Roma E poi Una delegazione Di Cepagatti Visita Al Sacrario Di Oltremare A Bari Lo scacco Lo scacco ai ladri In Val Pescara Il furto Alla Oma Presa la banda Della BMW Dopo il colpo Nell'azienda di Tocco I carabinieri Bloccano Cinque uomini Su un'auto Sospetta Già segnalata Nei giorni Se i sindacati Sono pronti A scendere in piazza CGL CISL E UIL Protestano Danni ingenti Con il decreto 108 Vista l'incidenza Anche sulle attività Riabilitative Residenziali Domiciliari E semi Residenziali E poi Una strada Rischiofrana I bus Non passano più Chieti Via Madonna Della Vittoria Pericolosissima Protestano I residenti Tratti A ridosso Delle case Di Taglio Basso La Sassaiola Altri sette tifosi A casa Durante le partite Gli incidenti In Bastese Chieti Salgono A undici D'aspo Del questore Per le Intemperanze Nel dopo Partita La pagina Di L'Aquila Sul Mona Il giallo Colabrese Un anno Senza i funerali Il 27 ottobre Sarà depositata La perizia Per far luce Sulla morte Del giovane Adesso Ripartono Le indagini Il PM Dice Il ragazzo Ucciso Dal colpo Alla testa La conferma Che Giuseppe Colabrese Sia stato ucciso Con un colpo Alla testa E è arrivata Dalla relazione Dell'anatomo patologo Nominato Dalla procura Della spezia Le linee Di frattura Documentate Nel cranio Sono riconducibili A un trauma Diretto A elevata energia Come quello Prodotto Da un corpo Contundente Animato Da una forza Attiva Il comune Condannato A pagare 10 milioni L'Aquila Sentenza Del giudice Civile A favore Della ditta Irti Ma l'ente Non paga E annuncia Il ricorso Di taglio basso L'inchiesta L'inchiesta L'Aquila Tentata Truffa Giudizio Il fidanzato Della senatrice Pezzopane E poi Cappelli Un colpo Da 25 mila euro Al supermercato Eurospin Ora lasciamo Le pagine Dei quotidiani E ci occupiamo Di meteo Con le previsioni Di Luca Mennella Seconda parte Della nostra Rassegna stampa Ora la pagina Su Teramo La visita Del sottosegretario Lotti Incontro Con gli imprenditori Amadori Un investimento Da 24 milioni Mosciano Lavori Per un magazzino E un digestore Di rifiuti Produzione Riorganizzata Con i suggerimenti Degli operai E poi il tema Il Sial Referendum Antiburocrazia Di spalla Il pranzo Di lavoro A Teramo Gli industriali Chiedono a Lotti Più fondi Per le infrastrutture E poi Di taglio basso La liquirizia Della tradizione Sbarca al market Atri Prodotti Menozzi De Rosa Compiono 180 anni E vanno Sugli scaffali Di Eurospin E Carrefour Ci spostiamo Sulle pagine Del messaggero E in apertura Si parla sempre Della visita Del sottosegretario Luca Lotti 18 milioni Per riqualificare Le periferie Di Pescara Il braccio destro Di Renzi A Teramo E nel capoluogo Adriatico Un bagno di folla Al Circus Alla convention Per il sì E c'è anche Marini Il governatore D'Alfonso Gli chiede di aggiungere I soldi Per abbattere La parte Dell'asse attrezzato Pescarese E poi La calata dei big Arrivano anche Parisi E D'Alema Per il no E il fuoco Viene raddoppiato Il prossimo 24 ottobre Alfano È intervenuto All'evento Del nuovo centrodestra Per il sì Domenica Ma la campagna Referendaria Va avanti E come letto Ci sarà Massimo D'Alema Il prossimo 24 ottobre Per il no Al referendum La ciama Trattiamo i rifiuti Di Roma Per poi rimandarli Fuori dall'Abruzzo L'impianto Di Aielli Dice Prorogato Un accordo Che era già in corso Ma il sottosegretario Alla presidenza Della regione Mario Mazzocca Dice C'è una misura Eccezionale L'Abruzzo Conferma Il suo impegno A sostegno Dell'emergenza Rifiuti Romana E al contempo Ribadisce il suo no Alla possibilità Di realizzare Un inceneritore In regione Lo farà oggi Nel corso Dell'ultimo tavolo Di concertazione Che si terrà Pescara Con tutti i soggetti Coinvolti Nel quale sarà chiesta Ufficialmente La revisione Del decreto Governativo Pescara Il liceo Da Vinci Invade la città Vogliamo una vera Scuola L'ospitalità Del classico Non è funzionale La lotta Per riavere Le aule Di Piazza Grue L'accordo Con Di Marco Appare debole Oggi L'assemblea Potrebbe bocciarlo Armati di striscioni I 1600 studenti Del liceo scientifico Hanno sfilato In corteo Dalla sede Dei colli Fino al palazzo Della provincia E poi Una lettera aperta Di Licio Di Biase Che dice Salvare le lapidi Del ferrotel Di spalla Un caso Paga 1900 euro Per portare In classe Tuo figlio disabile La richiesta Del comune Di Roccamorice A un genitore Sospiri E Febbo Di Forza Italia Hanno dichiarato Una mannaia Sulle famiglie Abruzzesi Il trasporto A scuola Di un ragazzo Disabile Costerà ai genitori Quasi 2000 euro L'indignazione Scorre sui social network E diventa virale Rimbalzando Da un posto All'altro A lanciare il monito È Lorenzo Sospiri Il consigliere regionale Capogruppo Di Forza Italia Postando Sulla propria Pagina Facebook Una missiva Del comune Di Roccamorice Firmata dal sindaco Alessandro D'Ascanio Dove si parla Senza mezzi termini Di mutate Condizioni Di erogazione Con partecipazione Al servizio Trasporto Disabile E poi L'ACA Un nuovo numero verde Per i disagi Per lavori Sulla rete Domani Dalle ore 10 Alle 15 Potrebbero verificarsi Cali di pressione E di portata Idrica Montesilvano Nelle seguenti Zone Via Verrotti Corso Umberto Via D'Annunzio E relative traverse A comunicarla è stata l'ACA Mettendo in guardia Gli utenti Da possibili disagi E a disposizione Un numero verde Operativo 24 ore Su 24 Di taglio basso Le botte In piazza Muzzi Il sindaco Ci ascolti O si dimetta Si parla Della movida Violente I residenti Contro Alessandrini E Cuzzi E l'ennesima rissa Ha celebrato Il fallimento Della politica Questa L'immagine Scattata E soprattutto Si torna a parlare Di quella che è La movida Nel nuovo Centro di Pescara E dei residenti Che protestano E poi L'operazione Heartquake Mai preso Mazzette Ero in ospedale D'Angelo Torna libero Scarcerato Dal jeep Resta però indagato Perturbativa d'asta Un errore di persona O forse qualcuno Gli ha rubato L'identità Novità clamorosa Nell'inchiesta Su sisma e tangenti L'uomo era in dialisi Quando venne Intascato Il denaro E poi Il crack Del Pescara Solo due testa Difesa Ci aiutarono Imprenditori Anonimi Di taglio basso I furti in serie In Val Pescara E' stata sgominata La banda Lo scacco al crimine Arrestati cinque romeni Che svaliggiavano Aziende e abitazioni Sono stati fermati Dopo un colpo A Loma Di Tocco La strada parco Il chilometro Della spesa Infinita e colorata La fila Delle bancarelle Del mercoledì In tanti Si trovano lì Per fare shopping E quattro chiacchiere Vantaggi e disagi Con il trasferimento Da Piazza Duca Percorso lungo Per gli anziani E affari In calo Per qualcuno Passeggiare Senza traffico E' un piacere Si può assistere A esibizioni Di artisti di strada E poi L'emergenza all'oggi Sei famiglie Perdono la casa Un'altra la trova Lo sfratto esecutivo Di inquilini Irregolari e morosi A cappelle sul tavo Ma a Montesilvano C'è chi sorride E poi La mala scatenata La rapina La banca marca E gli impiegati Sequestrati L'Aquila Navarra Sul Gran Sasso Disco verde Allo sviluppo Il piano d'aria Si può fare Ma sempre nel rispetto Delle regole Ma save Gran Sasso Non si sente rassicurato Il PAF Non cancella Il SIC C'è un dibattito In corso Il direttore del parco Gran Sasso Monti della Laga Domenico Nicoletti E poi il presidente Dello stesso ente Tommaso Navarra Ci tengono a far capire Che l'area di quota È cambiata Non vi è conservazione Senza sviluppo Ribadisce in una nota Il presidente Navarra Come dire Il piano d'aria Sul Gran Sasso Si può fare Non vi è alcuna velleità Di integralismo ambientale Ma sempre nel rispetto Delle regole Un messaggio chiaro Rivolto Soprattutto al comitato Save Gran Sasso Che ha intrapreso Una crociata Contro il SIC Il sito di interesse comunitario Che ingloba Gli impianti Sciistici Una replica Anche alle polemiche Scaturite Dagli incontri tematici Del Festival della Montagna Che si è appena concluso Il Gran Sasso d'Italia Ai monti della Laga Esprimono Per consolidata tradizione Per precipua Connotazione naturale Una non mortificabile Vocazione Anche turistica Questo lo scrive In una nota Il presidente E non è un caso Che lo storico Rifugio Garibaldi Risalga Al 1886 E la storica Funivia Del Gran Sasso d'Italia Risalga Ai primi anni 30 del 900 Sotto servizi Una grossa Perdita d'acqua Blocca i lavori In un tratto Del corso stretto E poi L'inchiesta Collegamenti con i casalesi L'inchiesta Chiesta La proroga Delle indagini Un'indagine molto complessa Quella sulla presunta Infiltrazione Della criminalità Organizzata Dei casalesi In città Addirittura Prima del sisma Per la quale È stato necessario Chiedere una proroga In centro storico Rapina e lesioni In 5 finiscono nei guai Il gruppetto Avrebbe aggredito Alle spalle Un 26enne Poco dopo A essere uscito Da un locale Notturno A migliaia Sugli spalti La gran festa Del derby Rilancia il rugby In 2500 Per la sfida Tra l'Aquila E Gran Sasso In tribuna Le vecchie glorie Non gli amministratori Ghizzoni dichiara Serve sostegno Troiani dice Sembravano I tempi d'oro E biondi Ha dichiarato È stato commovente Il derby del rugby All'Aquila Fa il tutto esaurito Un grande spettacolo Per gli occhi Dentro e fuori Il campo Vediamo Il vero successo È quello degli appassionati Di pallovare Del capoluogo E del suo Interland Che in 2500 Hanno assistito Il primo storico derby Tra l'Aquila E la Gran Sasso Rugby Numeri da capogiro Per l'eccellenza Massima espressione Del rugby nazionale Figuriamoci Per la serie A Dove militano Neroverdi E Grigio Rossi Al termine Della gara Il tabellino Segna 26 a 20 Per l'Aquila Che si conferma Leader del campionato E pretendente Per il salto Di categoria Per la Gran Sasso Grande prova Sia sotto il profilo Tecnico tattico Che di orgoglio Passando alla cronaca Dopo i primi due giri Di orologio I neroverdi Si portano avanti Con un calcio piazzato Di Filippo Di Marco La giovane apertura Aquilana Non preciso al piede Sbaglia un piazzato Cinque minuti più tardi È al tredicesimo Che l'Aquila Segna la prima Delle sue tre mete La terza linea Dario Bascia Buca la difesa avversaria E viene fermato A pochi centimetri Dalla linea di meta Ne nasce Un capovolgimento Sul lato opposto Che porta in meta Francesco Giorgini La gara È equilibrata E corretta Nessun cartellino giallo Fischiato negli 80 minuti E al venticinquesimo È l'apertura Della Granzasto Riccardo Lorenzetti Affintare a 5 metri E schiacciare sotto i pali Tre minuti più tardi Di Marco Su calcio di punizione Colpisce il palo Niccolò Speranza Raccoglie il pallone Schiaccia in meta Ma l'arbitro annulla Dalla mischia Che ne scaturisce Il pack nero verde Spinge E il flanker Carlo Cerasoli Marca la terza mezza Dei padroni di casa Cinque minuti dopo È ancora Giorgini Dopo una veloce azione Palla alla mano Che porta sull'allungo Più importante Nero Verdi 23 a 10 Il primo tempo però Termina con la meta Della Gran Sasso Che si impone In mischia aperta Schiaccia oltre la linea Con Domenico Guerriero E va negli spogliatoi Sotto al break 23 a 17 Nella ripresa Il gioco è frammentato L'Aquila Soffre gli avanti Grigiorossi Ma migliora Nelle tush Non riesce tuttavia A concretizzare I tanti minuti passati Nella 22 avversaria Il punteggio Si sblocca Solo a 4 minuti Dalla fine Grazie ad un piazzato Centrato da Gianmarco Cialente Entrato nella ripresa Al posto di Di Marco Gli risponde Al piede L'estremo Sudafricano Jess Dutua Due minuti più tardi Per il 26 a 20 finale Che vale il punto di bonus Difensivo Per la Gran Sasso Regmi Ancora sulle pagine Del messaggero Ora ci spostiamo Ad Avezzano Quartiere Pulcina Tolti tutti i vincoli I cittadini diventano Proprietari Delle abitazioni Annuncio Dell'assessore Angelini Dopo il summit Con la parte notarile Una decisione Attesa da 30 anni Anche l'assessore Di Fabio Si è espresso In termini favorevoli C'è stato il via libera Di Iucci Come presidente Della commissione ambiente E poi Scuole a Prato La stoppa I doppi turni Il sindaco De Crescenti S'ha annunciato Il piano Per tornare Alla normalità A Sulmona Oggi scatta Il festival Delle narrazioni Oltre 20 appuntamenti Tra incontri Con gli autori Musica E il premio Metamorfosi E poi Sempre ad Avezzano Piscina Altro scontro Amatilli Amatilli De Cesare Andiamo avanti Su Chieti Le 101 opere Di Paglione Restano a Chieti Valgono 2,4 milioni Di euro Una nuova inaugurazione Il museo Barbella Con la presenza Di Giovanni Legnini Il collezionista Fa appello Al sindaco Venga subito Nominato Un direttore Il vicepresidente Del CSM Dice È un gesto d'amore Verso la città E una leva importante Per il suo rilancio E di primio Il sindaco di Chieti Ha dichiarato Riapro L'antico palazzo Ma a San Gioli Siamo al lavoro Per trovare finanziamenti Il pugno duro A Chieti Il derby Lo stadio Vietato per anni A sette tifosi Pesanti decisioni Del questore Dopo gli incidenti Avvenuti al termine Dell'attesa gara Tra Vastese Chieti Di taglio basso L'Ateneus Fratta il Cus Via dal nostro stabile Un caso Ieri mattina È partita la lettera Con cui il direttore Generale dell'Ateneo Filippo Del Vecchio Ha invitato Il centro universitario Sportivo A lasciare i locali Dello stabile Di Viale Abruzzo Immobile Di proprietà D'annunzio Si arricchisce dunque Di un altro capitolo Lo scontro Tra le due realtà Andiamo avanti Esame al 2018 Si incatena Al Renzetti Il 41enne Paolo De Titta Deve fare L'eco Doppler Ma presto Mi dovranno essere Amputate Altre dita del piede Per lui Quasi due anni Di attesa Ha inscenato La protesta Nei pressi Dell'ingresso Del centro unico Di prenotazione A Lanciano Se non si sblocca La situazione Faccio lo sciopero Della fame E della sete Qui davanti All'ospedale Questo l'appello E poi Teramo Una ragazza incinta Di quasi quattro mesi È stata aggredita In strada Da un ubriaco La donna insultata E strattonata Con forza Interviene il compagno Che è stato ferito Nella rissa C'erano persone Che guardavano Dalle finestre Ma nessuno Ha mosso un dito Per difenderci Ora Voglio dimenticare Per far nascere Serenamente Il mio bimbo Mi ha portato bene Un fiocco azzurro Trovato ad Amatrice Un incontro Gatti Di Sabatino Brucchi Resta al suo posto La politica I due esponenti Della maggioranza Garantiscono Il sostegno Al sindaco Fino al 4 dicembre E poi Comune 3 milioni di debiti A carico Della Team Quasi un terzo Della somma È inesigibile La D si rivolge Alla commissione Di garanzia A Giulianova L'acqua benedetta La ASL Chiude le cannelle La Madonna dello splendore Ordina il priore Del santuario Fonte inquinata Ora ce la conferma Anche alle prime analisi Padre Simone Interrompe l'erogazione Del flusso idrico Mai nessun malore Anzi Ci sono stati Effetti prodigiosi La contaminazione Dovrebbe arrivare Dall'esterno Del monastero Nel mirino C'è il sistema Fognario E poi a Roseto La scuola di Montepagano C'è stata alta tensione In comune Divampa la polemica E torna ad attualità Il tema Della scuola chiusa Montepagano Inizio settembre Da un lato C'è la giunta Monocolore Pd Fatta dal sindaco Di Girolamo Mentre dall'altra C'è un'eterogenea Unione Composta Da liberal Socialisti Sottanelliani Gattiani E si pensa All'ultimo motivo Di protesta Che ha unito Tutta l'opposizione Non è il mancato Trasferimento Del consiglio comunale Che si svolgerà Il 20 ottobre Con due punti All'ordine del giorno In una nota Congiunta Firmata da sei consiglieri Di minoranza Si legge La maggioranza Rappresentata in conferenza Di capogruppo Tra gli altri Dal suo consigliere Paganese Ha scelto Di non accogliere La proposta Dell'opposizione Di svolgere Il consiglio A Montepagano Nonostante la minoranza Avesse dato La propria disponibilità A devolvere Il gettone Di presenza Per la copertura Delle spese Accessorie Necessarie Allo svolgimento Del consiglio Nella frazione E poi Il malore in moto L'addio A Mancinelli A Silvi Stamattina Il funerale Dell'ex piastrellista Allo strazio Della numerosa Famiglia A Tortoretola Materna Più personale E migliori I menu Apriamo la pagina Dello sport Il Pescara Non sarà facile Galeone Dice L'Udinese Con del neri Ha cambiato subito Marcia Due settimane fa Non avrei avuto dubbi Sulla vittoria Del Delfino Salvezza Possibile Ma bisogna Subire qualche gol In meno Per chi ti ferò Per i colori Biancoazzurri Sono l'amore Della mia vita Oddo Va davanti Con le sue idee Ma se a gennaio Gli prendono un difensore forte Non sarà male Questi consigli E poi La Lega Pro Caidi Frusta Il Teramo Poca voglia Di lottare Il difensore Fa autocritica In questa categoria La rabbia agonistica Non può mai Venire a mancare Ci spostiamo Sulle pagine del centro Anche qui Apriamo quella dello sport Iniziamo proprio Con il Pescara TV E stadi I numeri Delle prime giornate La serie A Perde seguito Ma il Pescara piace I biancoazzurri Vanno alla grande Davanti al piccolo schermo E anche dal vivo Il Delfino In controtendenza Rispetto all'andamento Generale Di un campionato Che ha smarito A PIL Sempre meno gente Davanti alla televisione Negli stadi La media degli spettatori Casalinga È di 15.528 persone Superiore Alla stagione 2012-2013 E l'Adriatico Si trova al terzo posto Come percentuale Di riempimento Dopo lo Stadium E il Sant'Elia Caprari Dice dispiace Per il rigore sbagliato Byback Fa un posto Su Instagram E Verratti Da Parigi Fa ironia Sul suo italiano E poi ancora La Lega Pro Il Girone B Caidi Carica il Teramo Sabato giocheremo La partita dell'anno Il difensore Guarda il trittico Di gare della verità Pagliamo episodi Sfavorevoli E c'è bisogno Di positività La priorità In casa Teramo È di salire Al più presto La classifica Le prossime tre partite Contro Albinoleffe Gubbio E Mantova Diranno molto Sull'immediato futuro Dei Biancorossi E sul quale obiettivo È realistico Concentrarsi E allora Ascoltiamo proprio Le parole di Caidi Siamo andati a giocare Contro Una squadra Che prima Che cominciasse Il campionato Avevano Speso parole Importanti Oltre che soldi Importanti Quindi È normale Che Non è facile Giocare Contro squadre Del genere E penso Che il Teramo Sabato Con un pizzico Di Probabilmente Di autostima In più Magari Poteva portare A casa Almeno un punto La cosa più importante Penso che sia La fame E la voglia Di combattere Perché secondo me In questa categoria Bisogna Ma in tutte le categorie Bisogna combattere Bisogna Veramente andare in campo Con coltello fra i denti Perché Ci vuole Ci vuole Rabbia E cattiveria Secondo me È quella che Un po' Ci è mancato Anche nella parità di sabato Che poi A livello tattico E tecnico I giocatori Secondo me Tecnici A livello tecnico Li abbiamo A livello tattico Ci pensa il misto Quindi Quello che mi sento di dire È che dobbiamo dare di più Sotto l'aspetto Dell'agonismo E della determinazione Ecco È veramente Un campionato duro Come penso mai La Lega Pro sia stata così Perché Ho affrontato Veramente squadre forti Squadre Con giocatori di serie B A serie A Cioè Veramente Un campionato di alto livello Quindi È un campionato stimolante Però Come hai detto La classifica è corta Quindi Sia in vetta che in coda Basta vincere una partita E sei primo Basta vincere una partita Sei fuori dai play out E quindi C'è tempo Per fortuna E quindi Bisogna Assolutamente Fare bene Fin da sabato Assolutamente Ora la serie D Bartoccini Dice l'Aquila Ora Bisogna trovare Continuità Il match winner Rosso-blu A città di Castello Importante Fare sempre punti Domenica con la Torres Non si può abbassare la guardia Bisogna vincere Ancora la serie D Ma il girone F De Filippis Dice la vastese È più forte di prima Il DS Dice il capo Con il campo basso Solo frutto di episodi Ci rifaremo Domenica Pesaro Chieti Mariani Alcuni giocatori distratti E poi per il San Nicolò Che si gode Il gioiellino Di Stefano La promozione Chieti Torre Alex E Giuliano Valle Regine Nel gruppo A domenica Big Match Dei Giallorossi A Celano Che è la capolista In eccellenza Regna l'equilibrio Ma c'è il miglianico Insoddisfatto E il penne Risale la china E allora con lo sport Come sempre Noi concludiamo La nostra rassegna stampa Prima di salutarci Ricordiamo che L'appuntamento Con l'informazione Del TG6 Arriva nella prima edizione Alle 14 Invece Mattino 6 Con la rassegna stampa Torna domani Puntuale alle 7 Buona giornata Massimo